Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a analizzare la versione live di Gol Profit. Allora, cerchiamo indietro un attimo, andiamo su live, live stats module e ci troviamo qua. In questo momento è appena, ci sono solamente queste due partite, in questo momento è appena arrivato il gol del Western Sydney, una partita che volevo mostrarvi, ma purtroppo il gol è arrivato poco prima che entrassi. Ecco qua, queste sono le percentuali con cui si verificherà questo evento con le rispettive quote di betfair.com, ragazzi, non il .it, .com. Qui abbiamo l'over e l'under. Queste sono un po' le statistiche, total game e last 10 minutes game. Cos'è utile? È utile vedere queste statistiche quando si vogliono fare degli ingressi all'interno di una partita. Magari c'è una super favorita, non si sa se questa super favorita sta attaccando o no, ed è qui il gol profit che secondo me trova la sua maggiore utilità, molto di più dell'analisi pre-match. Qui trova la sua utilità nella parte last 10 minutes, perché quello che è passato nel total game non ci interessa, in realtà, più di tanto. Last 10 minutes game significa negli ultimi 10 minuti di gioco quali sono state le statistiche. Vediamo qua che c'è stato un tiro in, dall'interno dell'area. Zero tiri da fuori area. Un tiro fuori dallo specchio della porta e adesso è arrivato un altro tiro. Quindi cosa sta succedendo? Western Sydney dopo aver segnato il gol sta ancora spingendo. Rating degli ultimi 10 minuti è 8-0. Quindi il Western Sydney sta ancora spingendo e probabilmente vuole mettere un altro gol dentro. Andiamo a vedere le statistiche in generale. Qui ti dice il rating delle due squadre nell'arco dei 75 minuti passati, quindi nel tempo passato, e il rating è 4-3 in questo momento, è stato appena aggiornato. Cosa significa 4-3? Che il Sydney ha un rating leggermente maggiore. Potete trovare per esempio 11-1 in quel caso, o c'è già un vantaggio da parte della squadra che ha il rating 11, oppure è una squadra che ha dominato durante tutta la partita, anche se il risultato è 0-0. Intanto arrivano altre partite. Vedete, ci sono anche le partite friendly, quindi le amichevoli. Quindi veramente tante tante partite. Magari non trovate tutte le statistiche che ci sono nelle partite maggiori, tra virgolette come questa qua australiana, ma comunque ci sono. Qua sulla destra trovate un consiglio di giocata, ovvero il 65-75 dovrebbe essere che ci sia un altro goal dopo il 75esimo minuto. Ma basta cliccare questa icona verde e vi porterà sulla strategia che vi consiglia Goal Profit. Io onestamente le guardo come non le guardo. Diciamo che faccio le mie valutazioni personali. Vedete qua il rating sta crescendo a 12 e Goal Profit ti dice che un buon rating per entrare quando ti aspetti un goal deve essere superiore a 15, tra 15 e 20. Potete trovare spesso delle partite come ieri sera c'è stato l'Inter, Juventus-Inter, dove l'Inter ha spinto tutta la partita ed è finita 0-0. Addirittura il rating era arrivato a 40 in certe situazioni, ma il gol non è mai arrivato. Questo ovviamente dipende dalla squadra che si trova contro e indubbiamente da tanti altri fattori. Certo che guardare una partita secondo me ha molto più valore che analizzare dei numeri. Anche se, devo dire, che il solo guardare la partita non ti fornisce tutte queste statistiche che ti trovi davanti. Magari te le fornisce a livello mentale, ma numerico, diciamo, sul piatto non riesce a analizzarle tutte. Beh, ovviamente non avresti il numero di corner preciso al minuto, come vedete. Non avresti gli attacchi pericolosi, non avresti le percentuali di possesso palla solo nel guardare la partita. Non avresti i tiri in porta, non avresti i tiri fuori porta, non avresti i tiri o comunque le azioni pericolose all'interno dell'area fuori area. Cioè, vedete. Allora, qua, come state vedendo, il Sydney sta ancora attaccando. Ha fatto tre tiri da dentro l'area e un tiro da fuori area. Magari completamente ciccati, perché, vedete, due tiri, tra virgolette, pericolosi fuori porta. Cioè, sono arrivati solo due tiri pericolosi fuori porta. Quindi, in realtà, questi quattro tiri non hanno creato così tanti problemi alla difesa del Melbourne Victory. Però, come vedete, ecco, si è illuminato di verde il rating, significa che il Sydney sta spingendo. Qua sulla destra, oltre a trovare le strategie consigliate, trovate i cartellini rossi, i vari cambi, che sono comunque cose da tenere in considerazione. Se voi spuntate qua, vi troverete questa partita nei My Games. Andate qua su Submit Selection e vi ritroverete qua, sui My Games. Che comunque, diciamo, quando ci sono tante partite, non come questa mattina, ma veramente tante partite, è comunque un buon modo di selezionarle, di preselezionarle. Torniamo indietro, andiamo a vedere qua. Se clicchiamo su questa I, ci troviamo un po' in una schermata che ci dà altre informazioni. Ci fa vedere lo scorer, ci fa vedere i vari cartellini che sono arrivati. Adesso, vedete, qua di fianco a me, ci sta dicendo che la squadra di casa sta cambiando un centrocampista con un attaccante, quindi cercherà di andare all'attacco e stessa cosa ha fatto la squadra fuori casa. Quindi sta cambiando un centrocampista per un centrocampista in questo caso. Statistiche. Stessa cosa. First half, veramente qua. Second half, eccolo qua. Quindi è diviso in primo tempo, secondo tempo. E qua vedete i vari rating. In questo caso, dopo che si è riazzerato, ovvero che è arrivato il gol, vedete, potete anche ingrandire, dopo che è riazzerato il gol, si azzerano tutte le statistiche. Qui entriamo un po' troppo sullo specifico. Allora, ecco qua. Adesso vedete che non c'è tanto movimento da parte del Melbourne. Si è un po', diciamo, arreso al risultato. Sta spingendo solo il Western Sydney. Pre-game com'erano? Com'erano le statistiche? Qui ti dice il vento, temperatura di gioco, le condizioni climatiche, ti dice come erano le quote pre-match, i under-over, la liquidità, i under-over. Qui ti dice tutti i giocatori, in questo caso io personalmente non conosco i giocatori di queste due squadre, quindi a me interessa ben poco, ma magari con squadre della Serie A, squadre della Bundesliga, dove conosco tutti i giocatori, mi posso rendere conto di chi c'è in campo o no. e qualche video di azioni interessanti, magari anche di azioni da goal. Diciamo che goal profit su questo ha una certa utilità, ha una certa utilità senz'altro, ed è sicuramente più rilevante, per quanto mi riguarda, che è sicuramente più rilevante rispetto a, diciamo, le informazioni che ti dà pre-match, perché, come penso io, onestamente, le statistiche non hanno memoria. Certo, è ovvio che se una squadra è molto più forte di un'altra, mediamente le statistiche sono quelle, ti può dare un'indicazione, però, secondo me, analizzare una partita live è molto meglio di analizzare solamente le statistiche. Io, per questa sezione, penso di aver finito. Non voglio trattenervi di più, perché sennò diventerebbe un video inutile e noioso. In questo caso vi viene consigliato questo tipo di gioco e l'over 2,5, che adesso è quota 11, è incredibile, però, magari, giocare un over 1,5 per dare fiducia a questa strategia comunque non è affatto male. Andiamo a vedere qua su. Onestamente non guardo molto i friendly games, ma vediamo, infatti, qui vi danno molte meno informazioni, molte, molte meno informazioni, non c'è stato niente di che, ed è, vedi, non c'è pressoché liquidità, quindi questa partita è molto difficile da analizzare, sia da noi stessi, da noi perché è comunque un amichevole, sia da col profit, vi rendete conto che, comunque, un amichevole, dove ci sono poche statistiche, è difficile analizzare, anche per un software così avanzato come Gol Profit. Mentre per tutte le altre partite, che comunque l'Australia, ragazzi, non è un gran campionato, ma comunque per le partite di media alta fascia, ci sono più che le informazioni sufficienti. Veramente, veramente molte informazioni. Io con questo, spero, di aver reso un po' l'idea del funzionamento di Gol Profit Live e ci vediamo al prossimo video con un altro aggiornamento su Gol Profit. Ciao a tutti!